si parte oggi 7 luglio 2020 dall'arco della pace a milano andremo fino a presezzo in provincia di bergamo partiremo con federico bassis l'uomo che conosce tutto il territorio poi ci sarà nico valsesia e ancora ultimo ma non ultimo giovanni storti e poi ci sarò io paolo mei che avrò la fortuna di accompagnare questi meravigliosi ospiti in queste tre bellissime giornate di grave questo è un fighetto guarda io posso guidare anche così gli ultimi metri scappa rabbiosamente e vince la tappa anche questa volta il viaggio continua da presezzo a brescia a guidarci sarà nicolò varanini ma con noi ci saranno anche il padrone di casa paolo alessio sindaco di presezzo e soprattutto René Wirz CEO di 3T a 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 vedete cosa non ci rimane? Facci la pena! a 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